probabilmente per fare questo video non avrei bisogno di indossare le cuffie ma voglio farlo perché prima di passare al pallone volevo spiegarvi il perché ci ho messo tanto a fare questo video il perché sono in questo studio che adesso da quell'inquadratura la vedete un pochino di più e il motivo per il quale ci ho messo così tanto ragazzi è perché volevo fare questo video molto molto vicino al primo episodio del mio nuovo progetto che adesso posso dirvelo sarà un podcast e in descrizione trovate già il link al canale per potervi iscrivere il primo episodio uscirà il 6 gennaio non vedo l'ora di iniziare questo viaggio con voi con chiunque voglia farne parte e davvero ragazzi sembra per me assurdo essere qua a dirvelo perché è stato veramente un parto cioè per me è una cosa che ho in testa da anni e la realizzazione ha impiegato mesi e mesi e mesi poi sono mesi molto caotici quindi potete benissimo capire ma partiamo partiamo il 6 gennaio esce il primo episodio sono contentissimo grazie a chiunque si iscriverà vi voglio un sacco di bene grazie per il supporto e grazie a chiunque altro arriverà chi non ha non mi ha mai visto prima davvero grazie mille ok adesso credo che possiamo anche passare a parlare del principale soggetto di questo video quindi posso anche togliermi le cuffie perché lo stiamo facendo un episodio ragazzi questo pallone per me ha un valore simbolico molto molto importante un valore emotivo impressionante poi lo scoprirete anche durante il podcast che sicuramente avremo modo di parlarne di lungarci prima di passare al collezionismo quindi all'aspetto economico quindi magari anche come una sorta di investimento vero e proprio volevo un attimino parlarvi dell'aspetto emotivo che mi lega a questo pallone allora io ho iniziato a giocare a basket grazie a un dvd che è michael jordan higher time della catena di i love mba e quindi per me è sempre stato un sogno poter andare a vedere l'nba un giorno è sempre stato un sogno poter andare negli stati uniti e figuriamoci non avevo mai immaginato di avere qualcosa di ufficiale autografato da michael jordan questo pallone è una storia un po particolare perché per la prima volta andai negli stati uniti due anni fa nel 2018 e andai a new york quindi cosa c'è a new york per un appassionato di basket l'nba store e una volta dentro l'nba store ci mesi circa dieci minuti ero un po disorientato per capire dove fosse la parte di memorabilia quindi dove fosse tutta la zona degli autografi tutte le cose ufficiali e ragazzi laggiù potete trovare di tutto potete trovare tutto nel 2018 si poteva trovare sfortunatamente ancora tantissima roba di cobi e ma adesso adesso non più l'ultima volta che ci sono andato è completamente tutto finito c'era anche un cappello per farvi capire con nero con la scritta 24 ed era fatta con carati di oro c'era era una cosa che costava 24 mila dollari e dopo vi racconto caso mai meglio chi mi ha spiegato cosa un attimo per non dilungarmi troppo perché veramente potrei stare a parlarvi a raccontarvi ore ma come dico magari lo faremo nel podcast vedo questo pallone vedo questo pallone di jordan vedo anche la canotta di jordan vedo dei quadri fantastici di jordan e tutti intorno ai 1500 il pallone costava 3000 dollari e la canotta costava sui 6500 dollari ovviamente essendo la mia prima volta negli stati uniti essendo un viaggio molto importante non era mia intenzione spendere tutti quei soldi e assolutamente era un sogno guardavo questi oggetti e mi rendevo conto di quanto fossero fortunati per tutto l'aspetto ovviamente emotivo che c'è dietro le persone che ne sono in possesso e rendendomi conto che sono pezzi unici quindi un giorno comunque sia le scorte finiranno e che il loro prezzo può soltanto salire quindi diciamo che la mia gita l'ambie store finisce lì sono stato a new york un paio di mesi tornavo al negozio spesso guardavo le cose le ammiravo praticamente ma non ho mai preso niente essendo un pantaloncino o qualche canotta dov'è che la cosa si fa un po più interessante si fa più un pochino più interessante perché torno a new york quest'anno torno a new york quest'anno a febbraio con due dei miei miei amici torno a new york con questi ragazzi che sono appassionati di basket tanto quanto me e quindi la prima cosa che facciamo ci gettiamo dentro l'ambie store andiamo dentro l'ambie store vado al mio piano i quadri non ci sono più le cose di cobi sono finite perché purtroppo era già appunto il 10 febbraio e quindi purtroppo cobi non c'era già più tutto finito di cobi tutto non c'era niente guardo il cerco il pallone il pallone non c'è non c'è più e lì il mio cuore diciamo che viene un po mangiato vivo da dal mio dal mio istinto no mi guardo un po intorno e vedo che c'è un ragazzo che io riconosco che lavorava lì il suo nome è chase questo ragazzo ha indosso una maglietta di lui che stringe la mano a cobi e quindi diciamo che riconosco che è un grande appassionato e mentre gli altri ragazzi cercano di andare in giro per capire quanto grande sia l'ambie store e quante cose possa offrire io mi metto a parlare con questo ragazzo con chase e perché volevo veramente capire quanto fosse grande il mondo degli investimenti anche dietro questi quei soggetti dato che purtroppo appunto lui mi spiegava che un signore un signore giapponese lui ha detto un gentleman giapponese il 27 gennaio quindi il giorno dopo purtroppo la scomparsa di cobi è andato in negozio ha comprato tutto lui quello che c'era di cobi quindi diciamo che anche diciamo gli avvoltoi a livello a livello di investimento su queste cose qua ci puntano molto perché comunque il collezionismo sta andando anche per non lo so qualsiasi cosa che magari non mi riguarda emotivamente ma sapere che charizard carta di pokemon una versione particolare costa più di una lamborghini è un po fa un po di effetto no cercando di capire un po di più cercando di scavare un pochino più a fondo dicendoli che sono molto appassionato lui mi spiega un po di più il fatto che jordan ha smesso di firmare cose ma era ufficiale dal 2015 quindi tutto quello che è stato venduto dopo sta iniziando a aumentare sempre più di prezzo perché ovviamente le scorte diminuiscono iniziamo io e lui a parlare in merito al pallone perché lui mi spiega che il pallone tornerà in negozio ma il prezzo sarà di 6 mila dollari lì ho iniziato un po mi è iniziato un po a rodere il c***o onestamente perché comunque ci avevo pensato e era facile da intuire che il valore di questo oggetto potesse soltanto che salire nel tempo inizio a fargli sempre più domande lui mi confessa che il pallone all'inizio valeva 800 dollari quando per la prima volta venne in negozio e poi da lì è iniziato a salire è andato sui 1.500 poi sui 3.000 e poi sui 6.000 dollari l'argomento va ovviamente su Dallas Dance dal momento in cui il prezzo è 6.000 dollari adesso quando uscirà Dallas Dance sarà sicuramente moltiplicato quindi inizio a parlarci inizio a chiedergli se lui fosse in grado di riuscire a mettermene uno da parte nel caso in cui io fossi interessato questo ragazzo inizialmente fa un po di muro perché un ragazzo italiano che quindi il pallone dovrebbe essere spedito il pagamento dovrebbe essere fatto dopo mettere da parte non si sa ordinarne uno in più c'erano tanti discorsi qualcosa poi gli ha fatto cambiare idea perché ha iniziato a dire bro I feel you ha iniziato a dire che sono appassionato come lui e quindi alla fine mi ha detto guarda Giulio se hai bisogno torna prima che tu vada via firmiamo la cosa che tu lo compri e poi vediamo come fare per la spedizione in quei giorni lì parlandone con i ragazzi non lo comprai non lo comprai tornai a casa e me ne penti subito me ne penti subito quindi mi ero anche dimenticato il nome di lui perché io vi dico che si chiama Chase ma perché l'ho scoperto dopo quindi che succede io vado a vedere un vecchio scontrino di quel giorno lì perché comunque presi qualcos'altro e in america c'è praticamente penso anche in italia non lo so però c'è il nome di chi ti ha servito e c'era il nome Chase quindi chiamo l'MBA store mi faccio passare memorabilia che è proprio un'altra zona dell'MBA store dove gestiscono queste cose qua di autografate mi faccio passare questo ragazzo lui mi riconosce iniziamo un po' a parlare mi dà il numero di whatsapp iniziamo a parlare un po' su whatsapp sul come fare come non fare e poi l'ho preso la grande batosta è stata un po' di dogana perché comunque per queste spedizioni c'è la dogana ovviamente perché arriva oltreoceano però ce l'ho fatta perdonatemi questo escurso sulla storia ma secondo me era interessante per arrivare a un punto il punto è cazzo se hai un istinto se hai un investimento porca troia tatti retto ogni tanto perché lo dico a me stesso in primis volevo che chiunque fosse una situazione simile un giorno per quanto riguarda collezionismo o qualsiasi altra cosa prendilo prendilo se hai fatto i tuoi calcoli se hai fatto le tue le tue scelte prendilo fortunatamente le cose sono andate come erano pianificate adesso se voi andate sul sito metterò degli screen strada facendo spero perché comunque li ho fatti nel corso del tempo la canotta che prima costava 6.500 dollari adesso ne costa 15.000 di dollari i palloni sul sito sono finiti non ce ne sono più in maniera ufficiale ragazzi poi se andate su ebay con delle cose contraffatte trovate di tutto però diciamo che non ve lo posso mostrare non ve lo voglio mostrare ma con questo pallone è arrivato tutto un certificato di autentificazione con dei bolli con dei numeri seriali molto molto importanti ed è da l'ambi store è da memorabilia in persona non è da ebay ho voluto fare questo video perché non ne trovavo nessuno nessuno in merito al pallone quando io ero laggiù a new york e cercavo di video di unboxing di persone che ne parlavano c'era qualche americano che faceva qualche cosa però non c'era niente quindi ragazzi questo è veramente un bellissimo gioiello c'è il numero questo quasi c'è il numero seriale sotto sotto il pallone sempre i brividi ogni volta che lo sfioro quindi si ragazzi ho voluto fare questo video perché non ne trovavo e spero che vi sia piaciuto spero di avervi dato comunque una buona storia e un buono spunto comunque magari un domani vi troviate una situazione nel genere il mio suggerimento sapete qual è lo venderò mai non credo non credo il valore motivo è gigantesco in merito a questo oggetto anche l'investimento è importante ovviamente però è una cosa che può solo aumentare di valore ma credo che sia una di quelle cose che come si dice si passa da padre in figlio veramente perché e se azzardi soltanto a venderlo ho capito non ti azzardare bastardo perché questo è veramente una cosa che rappresenta la mia infanzia la mia passione per la palacanestro e resterà sempre con me in qualsiasi ufficio avrò iscrivetevi al canale del too much podcast ragazzi perché questo è il nome del podcast lo trovate in descrizione iscrivetevi il 6 gennaio esce il primo episodio e a breve esce un altro video in cui magari ne parlo un pochino meglio così vi do un po più di introduzione ciao ragazzi grazie mille